Buonasera a tutti ai presenti e ai collegati, benvenuti al quarto incontro dell'Officina della Traduzione. Abbiamo questa sera, e ne siamo molto contenti, Ena Marchi, nostra ospite, traduttrice e editor della casa editrice Adelphi. Ena Marchi sarà presentata e provocata dalla collega Ornella Tagliani, alla quale do subito la parola e le passo anche il microfono, ahimè, perché dobbiamo passarci. Ok, grazie, buonasera a tutte e tutti, anch'io sono molto contenta che Ena Marchi abbia accolto il nostro invito. Ena Marchi lavora da oltre 30 anni per Adelphi come editor nella narrativa francese e italiana, ha tradotto e curato lei stessa le opere di vari autori, tra cui opere di Milan Kundera, che come sappiamo scrive in francese a partire dagli anni 90, di Chateaubriand, di Marcel Juandot, che è anche un autore a me caro, di Henri Pierre Rocher, che è l'autore di Jules Légime, il romanzo da cui è stato tratto il celebre film di Truffaut. E per quanto riguarda la narrativa francese, per Adelphi si occupa in particolare della pubblicazione delle opere di Simnon e insieme a Giorgio Pinotti dirige la collana Le inchieste di Maigretti. A diretto, sono finite. E inoltre nel 2011 ha avuto un premio per il suo lavoro di traduttrice editor, il premio Fedrigoni. Oggi ci parlerà del lavoro di revisore editoriale, che se possibile è ancora più invisibilizzato rispetto a quello del traduttore e invece tra l'operazione di traduzione e la pubblicazione di un testo c'è questa fase fondamentale che forse somiglia un po' al montaggio di un film, dopo che il regista ha girato le varie scene, c'è questa fase di raccordo generale prima della pubblicazione. Io già un po' più di una decina di anni fa ho avuto il piacere di ascoltarla in un incontro in cui raccontava una revisione e sono rimasta molto colpita perché in realtà partendo da delle cose anche molto piccole apparentemente venivano fuori delle riflessioni linguistiche, letterarie, anche storiche, molto più ampie. Per cui le cedo immediatamente la parola e poi ci sarà sicuramente poi modo di interagire dopo. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, vi dico rapidamente come ho cominciato a fare questo mestiere perché non è così semplice, innanzitutto chiedo scusa a quelli che mi hanno già sentito raccontare queste cose, ce ne saranno a Ornella sicuramente perché appunto sono anni che vado raccontando come si traduce, come si rivede un testo, che cos'è questo mestiere, quindi insomma un po' mi ripeto, sono sempre quelle. Dunque quando io ho cominciato a tradurre vivevo in Francia da qualche anno, sono partita quasi subito dopo la laurea, sono andata prima un annetto negli Stati Uniti ma per motivi assolutamente che non avevano niente a che fare con il lavoro e poi appunto invece sono andata in Francia dove sono rimasta quasi 14 anni. Come avrebbe detto Moretti in un film che sicuramente voi non avete visto, siete troppo giovani, facendo cose, vedendo gente, il che per fare questo mestiere mi è stato utilissimo, nel senso che io parlavo con un sacco di gente di tutte le classi sociali e appena sentivo un'espressione idiomatica, l'uso di un verbo, cercavo subito di riutilizzarlo e come sanno tutti quelli che insegnano le lingue, è così che si imparano le lingue e proprio in questo modo qui io avevo un'amica americana che aveva fatto un anno a Bologna e faceva la stessa cosa, soltanto e poi andavo a fare gli esami e dicevo ma porca puttana, faceva così perché lei riutilizzava naturalmente e quindi non aveva ancora capito i registri linguistici. A Parigi leggevo anche tanto e poi andavo al cinema e poi facevo le file all'Opera per andare a vedere le opere o i concerti di leader e poi andavo a vedere le mostre. Insomma mi acculturavo, mi acculturavo in modo assolutamente vasto e superficiale, tant'è vero che il mio vecchio amico Marco Sant'Agata, che Dio lo abbia in gloria, lui grande italianista e specialista di alcune cose tra cui soprattutto Petrarca mi diceva tu sei colta a modo tuo, nel senso che non avevo niente di profondamente conosciuto, però per lavorare nell'editoria devi sapere un sacco di cose in realtà e anche e soprattutto per rivedere una traduzione, perché se incroci a un certo punto un gioco di parole su una trota e non capisci perché in quel momento stanno parlando di una trota, se ti ricordi che esiste un quartetto di Schubert che si chiama la trota, lì però qualche cosa ti può arrivare? Non so se mi spiego, per questo che io ho sempre detto a tutti, anche quando facevo dei corsi al Master per redattori editoriali della Fondazione Mondadori a Milano, gli dicevo andate fuori, andate fuori, perdete tempo. È vero che quando avevo io 25, 26 o 27 anni, noi avevamo l'idea che tanto un lavoro l'avremmo trovato e che se non era a Parigi sarebbe stato a New York e se non era a New York era a Vienna e che in ogni caso adesso certo per voi è un po' più complicato perché il mondo è diventato più complicato e soprattutto il mondo del lavoro, però è vero che in questo mestiere è comodo sapere appunto aver ascoltato il Don Giovanni di Mozart e sapere tante cose, tante cose anche se in modo un po' superficiale. A un certo punto stando a Parigi ho cominciato a fare due cose che mi sono state molto utili per fare poi il mestiere che ho fatto. Cominciare a tradurre anche Robaccia, è vero sì perché appunto poi dovevo in qualche modo mantenermi perché il primo anno avevo una borsa in studio e poi dopo ho detto ma io non voglio tornare a Napoli, voglio rimanere a Parigi e quando hai trent'anni e sei convinto che li avrai per sempre perché questa è una delle illusioni che ci si fa quando si ha trent'anni, uno dove vuole stare? A Parigi insomma per forza o a Berlino o a Londra o a New York e così. E ho tradotto veramente anche Robaccia, mi ricordo un altro mio grande amico, troppo sono tutti morti, Giancarlo Mazzacurati, altro grande italianista e traduttore che mi aiutò una volta a rivedere una traduzione in cui si parlava di vernici a spruzzo per camion e devo dire che lì mi sono trovata veramente veramente a mal partito. Va bene, ho cominciato a tradurre anche appunto in modo un po' selvaggio e a fare un po' di linguistica contrastiva e quello che era il laboratorio, l'LADL, il laboratorio di linguistica di Paris 7 dove c'era Maurice Gross e dove c'era un mio amico che si chiama Anni Balelia, linguista, che mi aveva come dire introdotto a questo mondo della linguistica arrisiana dove si usavano i computer, ma stiamo parlando veramente degli anni 80, erano una novità, erano certe bestioni che insomma... e poi a capire come si insegnava l'italiano, cioè a fare della glottodidattica perché tutte queste cose mi hanno insegnato a passare dal francese all'italiano, a metterli insieme, a vedere come funzionavano queste due lingue, il che non mi ha impedito quando sono tornata in Italia dopo 14 anni di fare dei francesismi e credo di farne ancora, quindi devo stare molto attenta perché due lingue e cugine si... va bene, a un certo punto per puro caso, perché la vita funziona anche così, un mio amico che lavorava alla Biblioteca Nazionale di Parigi in un mese di agosto mi aveva incontrato un signore che si chiamava Roberto Calasso e siamo andati a pranzo insieme e dopo un po' Calasso mi ha proposto di fare una traduzione, sadicamente, avendo io nessuna esperienza mi ha dato da tradurre un testo della seconda metà del 600 e naturalmente quello che era allora il responsabile di tutte le traduzioni ad Elfi, il grandissimo Piero Bertolucci, me l'ha riconsegnata tutta piena di segni, segnacci, punti interrogativi, punti esclamativi, dicendomi con il suo bell'accento lucchese che io non saprei assolutamente riprodurre, lei è dei marchi, sì, marchi oro, sono questi marchi oro, mio padre fa l'avvocato a Napoli in una città dove ci sono moltissimi avvocati quindi proprio oro pochissimo e lui mi spiegò che questi marchi oro erano della gente molto ricca e che mi disse guardi lei la traduzione lascia perdere perché ci perde tempo, salute e denaro e allora io disse vabbè mettiamoci sopra una croce nera e lasciamo perdere e Calasso mi diede uno dei pochi consigli diretti, poi me ne ha dati molti indiretti diciamo negli anni in cui abbiamo lavorato insieme, mi disse no guarda le mazzate sulle orecchie sono la carota del traduttore, quella dell'A che si mette davanti all'asino quindi guarda tutte le correzioni che ti ha fatto Bertolucci, rivei, fagli un'altra prova e allora io feci così e riguardai tutto e lui aveva ragione su tutto naturalmente perché ovviamente un testo del seicento è pieno di parole, di termini che hanno avuto uno sviluppo semantico per cui oggi insomma io l'avevo presa veramente in modo tracotante e invece ho capito e la prima cosa che io ho fatto quindi ho rivisto una mia traduzione sulla base di quello che mi avevano fatto vedere, cosa che poi ho fatto in seguito poi a un certo punto mi hanno dato questa traduzione e poi me ne hanno dato un'altra appunto il famoso Jules Gim che per la mia generazione era qualcosa di mitologico naturalmente e poi ho tradotto un altro truffo e poi ho tradotto l'arte del romanzo di Kundera e le mie traduzioni venivano riviste da altri in casa editrice dopodiché un giorno mi si disse ti facciamo un contratto, io continuavo a stare a Parigi ti facciamo un contratto, adesso fai una revisione rivedere la traduzione di un altro è vero che io ne avevo fatte un po' di traduzioni ma da che parte si comincia a rivedere la traduzione di un altro? mi sembrò una cosa difficilissima tant'è vero che mi feci aiutare subappaltai con una parte di quello che ha un'amica che rivedete la mia traduzione, la mia revisione poi dopo, piano piano ho capito e a un certo punto mi è stato proposto ho rivisto questa traduzione poi ho rivisto una seconda traduzione tremenda che si chiama L'abbandono alla provvidenza divina un testo criptopietista sempre una cosa bestiale tant'è vero che avevo pagato un mio giovane amico gli avevo pagato l'aereo per pantelleria per cui la mattina gli altri andavano al mare e noi facevamo il babysitting criptopietista per cui lui mi spiega parola per parola quello che c'era scritto in questo testo in modo che io potessi insomma ho fatto un'iniziazione che neanche l'uomo chiamato cavallo vi ricordate che lo appendo pure quello è un film vecchio quindi non abbiamo gli stessi riferimenti ahimè soltanto i vecchi i vecchi come me se lo ricordo va bene e a un certo punto mi è stato proposto di andare a lavorare a Milano ho lasciato Parigi e con la morte nel cuore naturalmente perché Parigi, Parigi, Parigi avevo tutti i miei amici e sono andata a Milano dove ho continuato a fare questo mestiere cioè rivedere e naturalmente non potevo rivedere tutti i libri che venivano tradotti dal francese perché o comunque potevo rivederne una dove ho assolutamente avere qualcuno che mi fiancheggiasse che mi affiancasse in questo lavoro e quindi bisognava che io formassi addestrassi in qualche modo degli altri revisori e una volta appunto una di queste persone mi disse ma che cosa significa rivedere un testo e qui forse potremmo cominciare a vederlo se Ornella è così gentile comunque intanto vi continuo a raccontare delle cose naturalmente quello che questa cosa che io ho scritto e ripeto a un certo punto negli anni parlando di traduzione e di revisione questa cosa ha girato si trova anche da qualche parte su internet quindi questi punti sono diventati proverbiali la magica sarebbe questo per esempio a proposito degli omoteleuti mi è capitato in delle occasioni di fabbriche di traduzione di residenze di traduzione che magari qualcuno avesse messo due Ina vicini e quindi è stata ricordata questa sacrosanta idiosincratia allora io credo che per parlare di adesso metto le mani avanti come si dice quando ho scritto questi otto punti al quale ne aggiungerò uno in questa occasione parlando con voi come tutti i neofiti ero molto ortodossa adesso lo sono diventata un po' meno nel senso ma poi vi dirò perché per favore se avete domande dubbi se ci sono cose che non capite interrompete chiedete secondo me fate un favore anche agli altri va bene allora cominciamo dal primo punto restaurare l'integrità dell'originale anche al miglior traduttore accade di saltare non solo delle parole ma persino intere frasi questo sembra come dire come direbbero i francesi l'evidence même e invece questo è una cosa che capita anche ai traduttori ai migliori traduttori tanto più che adesso noi traduciamo con un computer e un testo davanti e soprattutto nel caso in cui ci siano per esempio delle cose che si ripetono è una cosa che capita queste regole queste regole indicazioni perdoni non sentiamo da casa intendo adesso adesso sentite e adesso mi sentite sì 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 va bene d'accordo allora passiamo al secondo punto restaurare nella misura del possibile e nel caso in cui il traduttore l'abbia arbitrariamente anziché giudiziosamente alterata la punteggiatura dell'originale e la scansione del testo di partenza tenendo conto tuttavia che ogni lingua ha regole peculiari di punteggiatura che non sempre vanno riprodotte e qui passiamo agli esempi naturalmente perché se no così rimane tutto molto astratto è chiaro che a nessuno di voi traducendo dallo spagnolo all'italiano verrebbe in mente di mettere il punto interrogativo rovesciato all'inizio della frase d'accordo perché in italiano non si fa facciamo un altro esempio una cosa che che disorienta molto spesso chi studia il tedesco il tedesco mette sempre la virgola davanti al pronome relativo ma l'italiano non mette sempre il pronome davanti alla virgola davanti al pronome relativo se io dico ma quello chi è ma sì è quello di cui ti ho parlato non si mette la virgola tra quello e di cui il tedesco la mette allora è chiaro che quando io dico alterare giudiziosamente la punteggiatura significa che appunto non si riproducono vi faccio ancora un esempio diciamo più sottile il punto e virgola adesso il punto e virgola questo sconosciuto immagino per la maggior parte di voi a me capita di usare il punto e virgola nei whatsapp e tutti ridono moltissimo ma per me è normale e anzi la mia è una battaglia per il punto e virgola perché il punto e virgola non lo usa più nessuno ma se voi traducete se per un caso vi dessero da ritradurre l'education sentimentale di Flaubert e ve lo auguro perché è un libro bellissimo la grande letteratura francese fino alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento e anche oltre usa solo usa tantissimo il punto e virgola allora se bisogna rimettercelo sempre quasi sempre qualche volta no perché noi usiamo i due punti qualche volta quando i francesi usano il punto e virgola però per sapere questo bisogna leggere molto bisogna leggere molto in italiano perché altrimenti voi non sapete come si usano questa punteggiatura lo stesso punto e virgola a partire da un certo momento viene ogni direbbero i francesi viene bandito detestato condannato tant'è vero che in questo momento io sto cercando di far capire al traduttore e alla mia prima rilettrice revisora di V13 il libro che è uscito in Francia da un paio di mesi in cui Carrer Emanuele Carrer racconta il processo per gli attentati del venerdì 13 2015 al Bataclan allo Stade de France e in altri bistrò di Parigi libro tosto ma molto bello secondo me che non mi devono mettere il punto e virgola perché Carrer il punto e virgola non lo usa mai e se lui non lo usa mai è per una scelta consapevole è una scelta consapevole proprio perché il punto e virgola è la punteggiatura del francese classico e lui scrive come se stesse scrive veramente come se stesse scrivendo un'email o un whatsapp e quindi secondo me non bisogna mettercelo il punto e virgola non bisogna imporgli il punto e virgola potrei fare degli altri esempi ma credo che sia abbastanza chiaro attenzione poi appunto agli scrittori come Kundera perché Kundera mi ha tolto il saluto per un punto e virgola a un certo punto ha deciso che non voleva più essere tradotto da me perché adesso non tanto per un punto e virgola ma veramente per una questione di punteggiatura perché ci sono degli scrittori Kundera poi è un caso molto particolare perché fa soffrire molto i suoi traduttori che non vogliono assolutamente che la loro punteggiatura sia modificata e fate attenzione anche alla parola scansione che vuol dire la parola scansione io quando vedo un saggio di traduzione in cui il traduttore non va a capo quando il testo originale va a capo e invece va a capo quando il testo originale non va a capo a me subito mi irrita perché questo bisogna rispettarlo bisogna rispettarlo il povero Kafka non ha mai visto pubblicati i famosi romanzi che aveva chiesto a Max Brod di distruggere ma avrebbe sofferto molto perché Kafka chiedeva le poche cose che ha pubblicato in vita chiedeva ai suoi editori di rispettare il fatto che lui non andava a capo ma non andava a capo però voleva che fosse tutto scritto in un carattere grosso nella maggior parte dei libri pubblicati voi vedete che ci sono i paragrafi perché gli editori hanno detto e vabbè ma questo non va mai a capo non è possibile e allora la scansione di un testo cioè l'articolazione di un testo bisogna rispettarla ovviamente tutte queste cose che vi sto dicendo e poi quelle che vi dirò dopo ancora di più riguardano degli scrittori fortemente consapevoli della propria scrittura perché se stai traducendo un maigret e decidi che Simonon va sempre a capo a capo a capo a capo e noi cerchiamo di rispettarlo Simonon usa una grande quantità di puntini sospensivi perché come diceva una volta Chabrol appunto quelli erano le intonazioni dei dialoghi le sospensioni che lasciano sottintendere altre cose i puntini sospensivi noi non li togliamo mai perché lui li voleva e noi li lasciamo qualche a capo ogni tanto si può togliere non si può prendere ogni tanto una libertà di questo genere dubbi domande niente è tutto chiaro domande se tu hai voglia interrompermi interrompimi ti lascio vabbè io sono una grande fan del punto e virgola cerchiamo anche di ripristinare però mi fa piacere perché per esempio hai fatto l'esempio di Flaubert allora con i studenti del terzo anno avevamo visto proprio una cosa del genere un esempio tratto all'education sentimontale e di una traduzione che aveva però poi completamente modificato anche quel tablo in tre elementi che è una struttura che lui utilizza spesso Mescenic diceva che la punteggiatura è la parte visibile dell'oralità del testo per cui il ritmo la scansione sono chiaramente delle cose essenziali allora andiamo avanti allora verificare che il traduttore non abbia indebitamente sinonimizzato le ripetizioni laddove queste rappresentino una consapevole scelta stilistica dell'autore se un autore ripete una parola questo lo dice Kundera proprio nell'arte del romanzo se io ripeto la parola casa e uso quella parola lì e io sono un esule non voglio che si metta casa abitazione alloggio se il se il 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 termine che io uso in in quel caso lì era ancora scriveva in cieco è quello e ripeto lo stesso termine voglio che il traduttore non sinonimizzi eliminare viceversa quelle eventualmente introdotte al traduttore con una particolare attenzione al proliferare degli ausiliari e dei verbi modali e restituì allora fermiamoci un attimo qua l'italiano sopporta meno di altre lingue le ripetizioni voi lo sapete benissimo probabilmente noi siamo anche un po' maniacali come diceva la Renata Colorni diceva sempre che la revisione è un'attività ottusamente maniacale e probabilmente aveva ragione detto questo Renata Colorni ha rivisto mirabilmente moltissime traduzioni dal tedesco migliorandole sensibilmente è vero che in italiano dà fastidio se voi vedete ha fatto e poi fa e poi fare in due righe una dopo l'altra in altre lingue no i francesi se ne infischiano totalmente ma l'italiano ci fa attenzione a queste cose se si ripete volere volere potere anche coniugato in altri modi noi facciamo ancora attenzione a queste cose e cerchiamo di eliminarle e restituire al testo una coerenza interna traducendo certe parole o sintagmi ricorrenti sempre nello stesso modo perché ci sono spesso quasi sempre direi in un in un romanzo delle parole che sono dense di significato per il romanzo stesso e lì non si può sgarrare veramente non si può sgarrare bisogna cercare al massimo di trovare lo stesso traducente nota a piedi pagina non sempre ci si riesce non sempre ci si riesce a me è capitato di avere dei problemi enormi con l'aggettivo francese du allora l'aggettivo francese du è non una croce delizia ma solo una croce del traduttore perché i francesi chiamano du qualunque cosa la poe dus la journée dus l'anno scorso dopo parecchi anni che non traducevo un libro mi sono innamorata di un romanzo francese che si chiama Genie la folle e ho voluto tradurlo io lei usa moltissimo questo aggettivo du ma io non sono riuscita a tradurlo sempre nello stesso modo era impossibile era impossibile ho fatto i salti mortali per cercare di tradurlo ma non era non era possibile non era proprio possibile va bene quattro snidare implacabilmente uno dei dei segni che questa cosa è stata tradotta molti anni fa quando ero appena tornata alla Francia che ci sono un sacco di avverbi in mente perché adesso non li metterei più tutti quegli avverbi snidare implacabilmente o almeno uno per punto ma insomma non due o tre snidare implacabilmente i calchi della lingua di partenza qui arriviamo alle cose seri ragazzi i fosami e importantissime le espressioni idiomatiche che il traduttore non avesse riconosciuto come tali questo vale per tutti i testi non soltanto per dei testi molto letterari perché i calchi nei calchi si scivola con una facilità incredibile appunto Ornelchi qualunque traduttore lo può lo può confermare soprattutto se le lingue sono sono vicine traducendo dal giapponese è un po' più difficile naturalmente però il calco poi lo vedremo soprattutto sintattico è una cosa che capita che può capitare e bisogna assolutamente evitarlo i fosami beh i fosami quello è sempre sapete che cos'è un fosami va bene non voglio dire siete dei traduttori le espressioni idiomatiche e qui e qui è questo è un punto dolente per una ragione molto semplice perché perché siamo noi stessi in italiano soprattutto voi giovani mi dispiace che stiamo perdendo l'uso delle espressioni idiomatiche quindi se le perdiamo in italiano non le riconosciamo neanche in un'altra lingua perché è chiaro che uno traducendo dal francese l'espressione ila casessa pip che vuol dire che non vuol dire ha rotto la sua pipa ma vuol dire ha tirato le cuoia ma chi la usa più l'espressione ha tirato le cuoia però voi dovete conoscerla voi dovete conoscerle voi che volete fare i traduttori dovete conoscere le espressioni idiomatiche io non mi dimenticherò mai ero appena tornata in Italia o da poco non mi ricordo qualcuno mi raccontò di un giornalista che aveva telefonato a come si chiama quella burrosa che veniva imitata dalla Guzzanti Valeria Marini Valeria ma scusa voi sapete chi è Valeria Marini anche se ormai fa parte di un altro di un altro mondo il giornalista telefona a casa di Valeria Marini la quale è in Sardegna a casa di sua madre e non so che cosa dice io oggi ho fatto questa cosa e parlando con la madre che naturalmente lei è al telefono col giornalista e dice mamma mi devi dare adito che questa cosa l'ho fatta e mi ricordo che tra le persone a cui questa cosa veniva raccontata non tutte risero perché tra dare adito e dare atto ormai non tutti fanno la differenza perché dare adito come direbbero appunto i linguisti che fanno il soggetto che fanno tutte queste cose meravigliose per cui poi si possono fare le cose su internet dare adito non può avere un soggetto umano è un qualcosa un evento che dà adito per esempio a un sospetto dare atto invece può avere un soggetto umano io ti do atto che sei una persona per bene ma già allora allora voi tutte queste cose le dovete sapere così come dovete ovviamente individuare le espressioni idiomatiche nei testi se vi posso dare appunto una dritta un consiglio un suggerimento cercate sempre questo può essere come dire un cappello generale di capire che cosa sta succedendo cioè allontanatevi dal testo perché spesso traducendo si ha un effetto di miopia cioè si traduce la frase ma non si capisce qual è la situazione spesso se vi allontanate un attimo e dite allora questo sta facendo questa cosa la situazione psicologica è questa oppure la situazione esterna la situazione meteorologica la situazione il contesto anche spesso se vi allontanate un momento c'è qualcosa che non funziona e ve ne accorgete secondo me a me capita di farlo perché ovviamente rivedendo delle traduzioni dico ma qui c'è qualcosa che non funziona e allora vado a vedere l'originale domande problemi sì dovrete mettere qui perché se no vi avevo detto mettetevi più vicini perché così è più comodo salve il premetto io sono al secondo anno a Lumi Strasi quindi non ho insomma conoscenze abbastanza profonde ecco no una cosa sulle espressioni idiomatiche lei giustamente ha detto che oggi non le usiamo più di tanto e come quindi la posso tradurre un'espressione idiomatica se poi ho il rischio che non venga capita dal lettore allora ma la domanda è molto giusta la domanda è molto giusta si tratta di vedere si tratta sempre di vedere come dice una mia amica in che campionato stai giocando per cui appunto se stai traducendo Flaubert non è che devi usare un'espressione idiomatica dell'Ottocento ma devi usare un'espressione idiomatica della lingua alta d'accordo se stai traducendo appunto Carrè il quale a sua volta usa espressioni idiomatiche della lingua parlata francese di oggi devi usare un'espressione idiomatica che pure esiste della lingua parlata di oggi questa era la cosa che poi vi volevo dire alla fine ma c'è una cosa alla quale bisogna fare molta attenzione parlando io mi sono resa conto che prima parlando con Andrea ho usato il piuttosto che come non bisognerebbe mai usarlo perché ci capita perché ci capita perché ci capita eh eh ma non scriverlo mai eh scriverlo mai allora questa era una cosa che vi avrei detto alla fine cioè ehm la eh lingua che noi parliamo e usiamo adesso a parte essere una lingua molto povera e anche eh o che va impoverendosi spesso invece si eh si si intorcina intorno a a degli usi che sì che sono della lingua parlata ma che bisogna fare molta attenzione a trasportare in una traduzione eh e comunque bisogna sapere che cosa che cosa si sta traducendo perché appunto eh se stai eh se stai traducendo un un noir americano eh io sono piena di ammirazione per esempio per per Maurizia Balmelli che che traduce che traduce oddio stasera sono stanca non mi vengono i nomi McCarty ecco naturalmente che traduce McCarty perché lì deve veramente eh fare delle come insomma arrampicarsi veramente sugli specchi ok passiamo alla quinta ecco anche qui è un punto è un punto importante verificare ancora più attentamente di quelle lessicali le scelte sintattiche del traduttore la struttura sintattica di una lingua la posizione dei complementi di verbo e di frase la posizione del soggetto rispetto al verbo la posizione dell'aggettivo rispetto al sostantivo la relazione fra sostantivo e verbo supporto per fare qualche esempio è idiomatica è cioè propria di una data lingua di conseguenza non va riprodotta nella lingua di arrivo la quale ha a sua volta una propria specifica articolazione sintattica questo è molto importante perché voi potete tradurre come dire facciamo l'esempio macroscopico d'accordo traducendo dal tedesco è ovvio che voi non metterete il verbo alla fine della frase no questo è l'esempio più ma non è detto che che questo vi sia sempre così immediatamente così chiaro perché è un po' la stessa cosa facciamo un altro esempio macroscopico il francese mette preferibilmente l'aggettivo dopo il sostantivo e voi sapete sempre che dovete valutare tant'è vero che il francese spessissimo noi per sottolineare l'aggettivo lo mettiamo dopo e invece il francese per sottolineare l'aggettivo per dare più peso all'aggettivo lo mette prima del sostantivo questo è facile però sono tutte cose alle quali bisogna pensare traducendo la posizione dell'aggettivo è idiomatica quando io parlo di verbo supporto è un po' una terminologia da linguisti ma sono quei verbi ogni ci sono questa è una cosa appunto che sanno i linguisti si usano con certe parole certi verbi e non se ne usano altri allora voi sapete benissimo e faccio sempre gli esempi più facili che se viene a trovarvi un amico francese e vi dice vado a prendere una doccia voi avete sempre l'impressione che quello prenda la doccia se la mette sotto il braccio e se ne va o inglese perché è la stessa cosa anche quello è il caso di un verbo supporto cioè che cosa si usa con doccia allora in inglese si dice to take a shower in francese si dice prendre une douche in italiano si dice fare una doccia o farsi una doccia ma così come questo questi usi se sono idiomatici ce ne sono migliaia in ogni lingua migliaia in ogni lingua e quindi molto spesso uno si chiede oddio ma con questa parola che verbo si usa e certe volte è difficile è difficile trovarlo però bisogna chiederselo ogni volta la posizione del soggetto rispetto al verbo io spesso mi chiedo e questa è una cosa però dei giovani traduttori traduttori come voi lo sanno perché non si ricordano che se in inglese o in francese il soggetto va sempre prima del verbo in italiano il soggetto può andare anzi spesso va alla fine della frase dopo il verbo ma questa è una cosa idiomatica cioè che fa parte della della struttura idiomatica dell'italiano la posizione dei complementi di verbo e di frase anche questo è un po' un 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 gergo da linguisti la posizione del complemento di tempo del complemento di luogo non non sono sempre non sono uguali in tutte le lingue anche in due lingue molto simili come il francese e l'italiano ovvio che io vi faccio più esempi con il francese perché è quella con la quale io lavoro così come tornando a quello che dicevamo sopra il francese mette sempre la virgola dopo il complemento di luogo il complemento di tempo ma l'italiano no e quindi certe volte sì perché si sottolinea qualche cosa allora bisogna ma bisogna pesarle queste scelte allora sì ogni lingua ha una sua propria articolazione sintattica e questi sono gli errori che si fanno molto più spesso di quelli che riguardano le scelte lessicali e passiamo punto 6 soprattutto verificare costantemente la tenuta del registro linguistico del testo di arrivo che è un po' poi la domanda che lei mi faceva che la cameriera di un bistro parigino si esprima in modo diverso da un'aristocratica del settecento sembra un'ovvietà eppure accade anche a eccellenti traduttori di essere sordi a sfumature essenziali di questo tipo questo è veramente importante questo è un esempio che io faccio sempre quindi qualcuno l'avrà già sentito e perdonatemi se il commissario Maigret va qui siamo in una letteratura abbastanza popolare rispetto a spero che qualcuno di voi ne abbia letto qualcuno perché i romanzi di Simonon senza Maigret sono bellissimi ma i Maigret lui li scriveva veramente lui diceva lui stesso che li scriveva fischiettando e per rilassarsi se il commissario Maigret va a interrogare una delle famose portiere di Parigi di questi immobili di questi palazzi dove sono avvenuti di avvenuto mettiamo un omicidio e le chiede ma il signor Durand del terzo piano ieri mattina a che ora è uscito in francese la portiera gli dirà oh oh qua qua qui l'è sorti verso 11 ore ma tradurre in italiano cioè la portiera usa un'espressione normale in francese e cioè credo che è uscito verso le 11 scusatemi il problema è che noi in italiano non possiamo dire credo che è uscito verso le 11 però troviamo un modo di non dire credo che sia uscito perché la portiera non usa il congiuntivo presente poi sul congiuntivo presente vi dirò una cosa che in questo momento mi rende molto molto triste vabbè la portiera non dice credo che sia uscito ma ci sarà un modo per non usare quel congiuntivo presente allora invece di dire credo la portiera potrà usare una cosa molto più idiomatica in italiano e potrà dire ma sarà uscito ma che sarà saranno state le 11 così non usa il congiuntivo presente faccio una piccola parentesi sul congiuntivo presente perché fino a pochi anni fa i linguisti dicevano che il congiuntivo presente era improduttivo e qualcuno direbbe che usare un termine economicistico per una cosa della linguistica è anche però improduttivo voleva dire che andava scomparendo che nessuno lo usava più adesso secondo me l'impressione che io ascoltando molto la radio meno la televisione ma ascoltando molto la radio e leggendo parecchio ancora i giornali ho l'impressione ditemi anche voi se bene siete accorti che si usa il congiuntivo presente per a scuola come la definivano diciamo una frase che comincia con se o con come mettiamo una frase noi diciamo se fossi in te questa cosa non la farei e va bene ma le frasi che cominciano con come come se spesso sono delle frasi che implicano una ipotesi impossibile no ha detto questa cosa e ne ha parlato come se fosse una verità assoluta adesso moltissima gente alla radio alla televisione dice come se sia allora io non so non so voi ma è un uso che è diventato ma ve ne siete accorti o no allora ma come se era come se era è una cosa va bene della lingua bassa e vabbè quello ma questo come se sia guardate adesso che ve l'ho detto fateci caso il come se voi non dovete farlo mai perché cioè voi siete dei traduttori dovete usare come se era a me me l'ha usato uno scrittore napoletano perché era una sua scelta stilistica e può darsi che ne so che traducendo un romanzo di Izzo in cui parlano degli emigrati a Marsiglia forse di origine italiana ma è una è una scelta come dire di abbassare violentemente il registro linguistico appunto il registro linguistico il registro linguistico è quello rispondendo alla domanda che mi era stata fatta prima e dicevamo in che campionato stiamo giocando attenzione se traducete un testo letterariamente importante appunto un classico parlavamo prima dei classici non bisogna fare un pastiche di lingua settecentesca ottocentesca ma bisogna usare una lingua alta una lingua colta se state traducendo un testo appunto un noir americano dovete usare una lingua una lingua bassa a volte queste scelte sono difficilissime c'è un altro esempio che mi capita di fare sempre sempre un maigret dunque un maigret che si svolgeva abbiamo fatto tardissimo abbiamo un maigret che si svolgeva negli anni trenta bene c'è una c'è uno che viene ammazzato come spesso succede in in simon maigret che è un che è come simon uno che deve rimanere la società deve essere ben sistemata le classi devono essere ben divise non ci devono essere spesso in simon i passaggi di classe sia in un senso sia in un altro sono quelli che provocano disastri benissimo c'è uno che in realtà ha una una piccola azienda in un quartiere di Parigi abbastanza poco come dire un quartiere non povero ma insomma di piccola borghesia place de Vos dove adesso si vendono appartamenti siamo negli anni a 25 mila euro il metro quadro benissimo questo qui naturalmente lui ha cercato di fare il salto di classe come si dice adesso e ha sposato una borghese ha sposato una borghese quindi più in alto di lui ed è andato ad abitare in un quartiere alto borghese Boulevard Ossman ok i parioli di Parigi per chi non c'è stato però aveva un amante e l'amante era come lui era una era una semplice che lo faceva sentire a suo agio ed è quella che naturalmente sta più simpatica a Maigret e che gli voleva molto più bene della moglie benissimo ma Maigret deve andare a intervistare per il lapsus a interrogare la moglie e scopre che che la moglie sapeva benissimo che lui aveva che aveva questa amante e la moglie parlando dell'amante usa l'espressione set figlie allora oggi come oggi se io vado a Parigi e dico ha già con un figlio très sympa significa semplicemente che ho conosciuto una ragazza molto simpatica ma quando io sono arrivata a Parigi nel 1976 una volta mi è capitato con dei signori altoborghesi di usare l'espressione j'ai connu un figlio très sympa e loro mi hanno detto ah no e n'avevo dove va non deve usare questa espressione deve dire une jeune fille perché la parola fille significa una donnaccia una donna di strada adesso se io rivedo una traduzione adesso stiamo rifacendo pubblicando dei reportage di Simonon e i poliziotti usavano la parola fille per parlare per parlare delle prostitute era la parola che veniva più usata ma la signora di Boulevard Osman che usa l'espressione set fille che non dice non usa nessuna espressione volgare in italiano come lo traduco quel fille perché appunto lei non direbbe mai la parola puttana ovviamente è una signora di Boulevard Osman forse direbbe quella donnaccia ma è molto connotato mentre lei dice semplicemente set fille mi è venuto in mente che che quando io ero piccola una volta a scuola sono stata punita perché sto parlando della fine degli anni 50 quindi non vi spaventate sono stata punita perché parlando di una mia compagna di scuola ho detto quella e sono stata punita perché non si faceva e allora ho pensato che la signora poteva dire lei l'ha già incontrata quella là o quella che era pesante perché lei non avrebbe usato oppure si appunto la parola donna non avrebbe forse detto si forse donnaccia era il più eufemistico però capite tutti i problemi che uno si pone per una cosa di questo genere perché appunto bisogna cercare di vedere chi parla con chi i soliti problemi della comunicazione va bene arriviamo alla fine perché sarete stremati immagino e vabbè tu però loro poveretti il mio il mio professore di psicologia all'università diceva ah io faccio durare le lezioni tre quarti d'ora perché dopo tre quarti d'ora l'attenzione l'attenzione cade e quindi tanto non mi ascoltano più per cui tra un po' finiamo dunque eliminare nella misura del possibile e questo è quello che diceva prima Ornella Tagliani le alliterazioni gli omeoteleuti e in generale le cacofonie che fossero sfuggiti alla rilettura del traduttore corollario importante evitare di introdurne a volte una correzione che pare astuta può rivelarsi una catastrofe ricordarsi che ci sono lingue in cui gli omeoteleuti per esempio sono meno fastidiosi che in italiano e quindi più accettati allora i francesi se ne infischiano totalmente di mettere anche perché appunto hanno questa lingua che finisce allora di mettere due participi in e e e poi due verbi perché tanto per loro non ha importanza ma se io ho una serie di ato 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 eto 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 ino 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 l'italiano non lo sopporta perché la nostra lingua come diceva tanti anni fa non mi ricordo più più è una lingua tarantellosa cioè è una lingua fondamentalmente piana poi ci sono le parole sdrucciole sbisdrucciole che fanno soffrire gli stranieri ma ci sono tantissime parole piane e quindi ato 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 ino 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 etto 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 se uno può cercare di evitarli insomma li evita dopodiché insomma è inutile fare poi tanti salti mortali per esempio un'altra cosa che capita spesso me ne sono accorta di recente noi ormai usiamo molto poco i diminutivi o quelli che si chiamano i vezzeggiativi però metterne due o tre vicini in italiano è fastidiosissimo fastidiosissimo mi sono trovata un paragrafo in cui c'erano non so due diminutivi e un vezzeggiativo e ho detto mamma mia ma non è sopportabile forse una volta lo era non lo so ma adesso non lo è più poi dopo vorrei leggervi finiamo questa cosa qua capite che cosa vuol dire omeoteleuti sì che sembra una parolaccia ma vuol dire appunto semplicemente delle parole che finiscono nello stesso modo gli avverbi in mente per esempio se ci sono ente ente inutilmente non so fortemente estremamente consistente a me mi dà fastidio estremamente consistente non ci posso fare niente non ci posso fare niente appunto e cerco e cerco di evitarlo va bene e per finire controllare questo controllare scrupolosamente le citazioni i nomi questo è importante perché sembra una scemenza ma non lo è le citazioni i nomi di personaggi di luoghi di opere letterarie musicali pittoriche eccetera le date le unità di misura insomma tutti quei dettagli che talvolta il traduttore non ha il tempo o la possibilità di controllare o ha controllato su una fonte spesso inaffidabile google quando io sono arrivata in Adelphi mi dicevano la Treccani la Treccani fa testo certo in effetti in effetti è così ma guardate che un sacco di cose io mi ricordo che una delle prime cose che mi disse Calasso perché non in una traduzione ma nell'editing di un libro di racconti di un italiano io avevo lasciato una cosa orribile questo aveva fatto un full a poker e lui aveva scritto full come il full del reliar esatto e lui l'aveva scritto io non gliel'avevo corretto e Calasso mi disse guarda tu pensi di sapere come si scrive Kant vallo a controllare cioè è vero bisogna controllare tutto perché certe volte certo se scrivi Hitchcock lo vai a controllare perché mica è così sicuro ma certe volte sei sicurissimo di una cosa e invece e invece e invece è sbagliato e invece non è così e invece ti accorgi che l'acca stava prima invece che dopo e cioè adesso faccio un esempio e poi queste cose le citazioni e per esempio le citazioni naturalmente chiunque di voi abbia a che fare con traduzioni dall'inglese sa benissimo che i romanzi inglesi americani ancora di più sono in tessuti di citazioni di criptocitazioni dalla Bibbia spesso per quelli che traducono dall'italiano in altre lingue ci sono noi abbiamo quando ero piccola mi dicevano eh mentre ho piangito per qualcosa mia nonna mi diceva piangi fanciulla piangi mi chiedo un traduttore che lo traduce da un'altra lingua non non è obbligato a sapere che è una citazione dal libretto della traviata di Verdi però se lo sa è meglio e vale la stessa cosa eh nell'altro senso naturalmente bisogna cercare di di riconoscere per esempio a me capita ehm nel francese di riconoscere eh l'altro giorno mi sono trovata di fronte al titolo di un capitolo di questo ehm V13 di Carrère e mi sono chiesta se non c'era dentro un'assonanza adesso sto cercando di ricordarmi qual è ma non me lo ricordo più con un'altra cosa con una cosa letteraria probabilmente questo non cambierà molto la traduzione però è bene che che allora rivedere significa farsi venire dei dubbi eh poi si si riassume in questo perché guardate che la mia traduzione che io ho fatto eh appunto un anno fa di questo libro di ehm di Cagnatì è stata rivista è stata rivista da Giorgio Pinotti che mi ha fatto le bucce o le pulci come si dice perché io ho una tendenza ad allungare un po' a introdurre delle cose un po' più espressive Giorgio mi richiamava sempre al 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 punto e quando io rivedo lui per esempio gli dico ma perché vuoi riprodurre esattamente la sintassi di Eschnose la sintassi di Eschnose in questo caso in francese non è una trasgressione non è esattamente come si direbbe in francese quindi nell'italiano usiamo la sintassi normale dell'italiano abbiamo e lui è molto più tende molto di più a stare vicino mi richiama a questo e io lo richiamo all'idiomaticità dell'italiano però anch'io mi faccio rivedere traduzioni scherziamo perché appunto mi sfuggono un sacco di cose per esempio su questo fatto di usare sempre lo stesso termine per un certo termine francese insomma farsi rivedere è fondamentale vorrei tornare un attimo indietro poi mi fermo anche perché non ho più non ho più voce prima che ci vedessimo Andrea mi ha dato delle sue indicazioni per come si rivede un piccolo prontuario per il traduttore a proposito di rivedere le grandi traduzioni del passato le traduzioni vanno o rifatte o riviste dopo un certo numero di anni perché e qua torniamo al discorso di che lingua si usa per tradurre e questo è veramente il problema fondamentale ma hai ragione sì infatti come diceva Carmelo bene sono apparso alla madonna ma l'hai trovato o no non volevi trovare questo ah no ah va bene come non detto allora Andrea Andolfi si poneva il problema di di rimettere le mani su una traduzione una di quelle traduzioni che sono diventate come dire non voglio usare mitiche perché è una parola che non mi piace ma che sono diventate come è che dicevi tu prima che hanno tutto il peso della tradizione che hanno il peso della tradizione io non vedo l'ora di rileggere Anna Carienina nella nuova traduzione perché l'ho letta quando avevo 18 anni vabbè è troppo presto e poi l'ho riletto una trentina di anni fa nella traduzione di Leone Ginzburg e mi ricordo che già allora Piero Bertolucci lucchese mi aveva detto assolutamente non fare toscanismi va bene la traduzione di Leone Ginzburg ha delle frasi di questo genere Obalia questo è il modo da frittellare l'ova che più mi garba una di quelle cose che cioè insopportabile ma anche insopportabile per un orecchio toscano Obalia questo è il modo da frittellare l'ova che più mi garba e appunto le traduzioni in quel caso non si può neanche come dire adesso non lo so rivederla forse lì bisogna veramente rifarla all'epoca evidentemente i toscanismi non davano fastidio ma oggi anche usare mi ricordo che Piero Bertolucci mi diceva non usare la parola uscio per esempio noi abbiamo sempre il problema queste sono altre dritte da da cucina traduttoria noi abbiamo sempre il problema di tradurre quelle parole di argot francesi che sono entrate totalmente nella lingua quando uno dice se tu ha o ma chi fe bufe le gosse i bambini li faccio mangiare io o li fai mangiare tu per tradurre in italiano buffet non è che c'è un modo di tradurre buffet in italiano che non sia mangiare i bambini li fai mangiare tu o li faccio mangiare io le gosse le gosse è una parola entrata nella 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 lingua francese quando Victor Hugo scrive i miserabili c'è tutto non so chi di voi l'abbia letto ma insomma c'è un bellissimo capitolo sull'argot che viene ancora è ancora la lingua proprio condannata è veramente la lingua dei criminali insomma dei delinquenti invece adesso ci sono un sacco di parole che sono entrate nella lingua ma io non posso tradurre buffet in altro modo che mangiare e gossi in altro modo che bambini e mi ricordo appunto che Piero Bertolucci mi diceva sempre non usare la parola monelli per carità perché non la usa è una parola terribile che cosa si fa in quel caso facciamo una piccola parere che cosa si fa se in francese uno dice le gosse e noi non possiamo tradurre i bambini li faccio mangiare io li fai mangiare tu abbiamo un debito dobbiamo sapere che abbiamo un debito con il testo e questa è un'altra cosa appunto che mi ha insegnato Piero Bertolucci sempre l'importante non è che in quella frase qualche in quella frase ci sia quell'abbassamento o quell'innalzamento di registro l'importante è che in generale l'equilibrio della pagina o delle due pagine o di quella prima o di quella dopo o della stessa pagina io mi ricordo che ho un debito cioè che devo in un altro punto abbassare il registro linguistico in italiano poi non è tanto semplice abbassare il registro linguistico questo è uno dei nostri grandi problemi perché come fai ad abbassare il registro linguistico lo puoi abbassare fino a un certo punto e poi ti scontri con con la lingua regionale perché io posso dire gli dai a mangiare tu ai bambini ma questo è un meridionalismo non posso non posso metterlo posso metterlo non posso metterlo però insomma bisogna sapere che da qualche è per questo che io parlo di un debito hai un debito con il testo ma torniamo a questo a questo prontuario per il allora Andrea Landolfi si pone il problema di come affrontare una traduzione che ha su di sé ormai acquisito il peso della tradizione molto spesso la cosa migliore è rifarla semplicemente perché perché le traduzioni le traduzioni veramente veramente invecchiano io non so tu che cosa pensi della nuova traduzione della della montagna incantata che è diventata la montagna magica ma forse non lo vuoi dire su youtube io posso parlare su youtube e tu no tranquillamente tranquillamente e hanno avuto hanno avuto lo dico un po' a malincuore però hanno avuto ragione Renata Colorni e Luca Crescenzi perché il titolo andava cambiato ma io non parlo solo o no sulla traduzione no no la traduzione è una traduzione assolutamente assolutamente impeccabile alcune scelte io non non le condivido proprio un certo modo di tradurre che io appunto non amo particolarmente però insomma ce ne fossero è una degna traduzione per i meridiani mondatori vabbè comunque lui dice lui dice delle cose molto giuste lui dice per rivedere una versione d'autore lui sta parlando veramente di una versione che è diventata io parlavo più incorporevili cioè e poi quello che vi ho detto prima è anche è anche molto adelfiano scusate io veramente sono un po' nel senso che noi lavoriamo molto sulle traduzioni non mi è capitato mai nella mia vita che lavoro appunto da più di 32 anni prima per Adelfi e poi Ina Adelfi che che un traduttore non fosse grato e contento del lavoro un traduttore può dire no guarda qua io forse però preferirei perché si se ne parla però in generale io ho avuto sempre ottimi rapporti con i traduttori è sempre stato però noi lavoriamo molto sulle traduzioni e quelli che sono più contenti del nostro lavoro sono i traduttori bravi perché capiscono che è importante è il lavoro di revisione però qui Andrea Andolfi sta parlando di mettere mano su una versione d'autore e lui dice coraggio nel fare le proprie scelte rispetto per ciò che il traduttore ha comunque fatto prudenza nel cassare e poi dice spesso l'espressione brutta e ci mette le virgolette è comunque il meno peggio qualche volta non lo so qualche volta è vero che uno dice guarda secondo me io non uso piuttosto che brutta io direi questa è la più onesta uso l'espressione onesta perché certe volte tu cerchi di migliorare e poi scopri che non è vero che quello andava bene così che era la cosa più onesta poi lui dice va bene poi questa è più lui dice bisogna non bisogna imporgli delle scelte che alle generazioni seguenti potranno apparire incomprensibili questo sì e poi dice delle cose molto molto sottili e poi dice mettersi alla prova traducendo e ritraducendo per sé i grandi e i grandissimi aiuta a liberarsi di qualche timidezza traduttoria e insieme dalla misura dei propri limiti ha perfettamente ragione perché certe volte confrontandosi per esempio io non so tradurre la poesia assolutamente proprio non mi ci sono mai neanche provata e ho un'ammirazione io sono brava nei dialoghi sono brava a rendere le scene credo di esserlo ma la poesia per carità quella è proprio una cosa appunto sono piena di ammirazione per quelli che traducono la poesia però è vero che certe volte immodestamente quando hai il testo a fronte perché è raro avere il testo a fronte nei testi di prosa nei testi narrativi tu dici però questa cosa qua ecco per esempio questa ripetizione si poteva si poteva rispettare era una cosa che forse si sarebbe potuta fare mi ricordo che qualche anno fa c'era una rubrica bellissima su questi oggetti di antiquariato che voi non conoscete più che sono i quotidiani ed era o forse addirittura con questi oggetti misteriosi che sono gli inserti letterari dei quotidiani c'era una bellissima rubrica tenuta per un anno da Walter Siti il nome vi dirà qualcosa che era sempre la proposta di una traduzione con poi un commento e una volta siccome lo conosco mi capitò di scrivergli e gli disse ma Walter ma in questo caso qua non sarebbe stato meglio e lui mi rispose mi disse ma anch'io ci ho pensato però poi dopo anche lì è sempre un bellissimo lavoro confrontarsi su una traduzione quando noi avevamo il tempo di quando in Adelfi si pubblicavano 30 libri l'anno e adesso se ne pubblicano 90 noi avevamo il tempo appunto di addestrare i giovani traduttori e quindi di lavorare con loro di rivedere insieme a loro il primo saggio di traduzione e poi fargli fare un secondo saggio di traduzione e poi dargli la prima traduzione e poi discuterne adesso purtroppo questo tempo non c'è più perché l'editoria è diventata una cosa tant'è vero che anche voi se avete già avuto esperienza di una traduzione sapete che vi danno poco tempo vogliono la traduzione in fretta e furia allora e quindi anche noi poi tutto il lavoro redazionale sulle traduzioni anche se cerchiamo di farlo al meglio come possono testimoniare i traduttori che 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 lavorano con noi però il tempo si riduce naturalmente necessariamente però ripeto è una delle cose più belle quelle di confrontarsi su una traduzione con il traduttore cercando appunto come dice Andrea Landolfi di rispettare le sue scelte però anche di metterle in discussione laddove ho l'orecchio ho la tua la mia conoscenza del francese c'è sente che qualcosa non funziona va bene come si direbbe a Napoli vi ho fatto una capa tanta grazie sì dico qualcosa io e poi sicuramente c'è almeno già una domanda da casa però grazie già avete visto che già nella lettura di queste di queste linee direttive c'è stato questo commento di sofferenza verso l'avverbio in mente che mi è piaciuto un sacco perché era una misa una BIM della revisione leggendo le regole per la revisione che ovviamente possono anche essere prese come delle indicazioni per tradurle chiaramente sono delle cose che si possono tenere presente sia per la traduzione sia per l'autorevisione cioè quella autorevisione necessaria che si fa prima di inviare il testo al revisore sperando che i revisori continuino a esistere perché certo in molti casi stanno sparendo e da questo incontro si vede la perdita assurda che è rispetto all'oggetto libro tradotto che viene chiaramente immeso sul mercato senza questo necessario dialogo io adesso senza fare senza fare i nomi è una macchia menzionato alcuni traduttori alcuni di loro li conosco e magari traducono per Adelfi anche in coppia quando si traduce in coppia poi c'è il dialogo tra traduttori poi c'è il dialogo con il revisore o la revisora e tutto questo produce il discorso traduttologico io questo un pochino ci tengo a dirlo perché certe volte poi quando si parla concretamente di traduzione come oggi poi si dice però la traduttologia è una cosa stratta no proprio questa invece è la traduttologia cioè il discorso riflessivo sulla pratica traduttiva e mi è piaciuto molto l'insistenza sulla riflessione rispetto al contesto quando si traduce per esempio so da traduttori bravi traduttrici bravissimi come Federica Di Lella che quando si traduce Simnon ci sono certe volte i personaggi che fanno dei gesti bizzarri e quindi loro come prima cosa si sforzano di capire che cosa sta facendo il personaggio prima di capire come bisogna tradurlo allora questa immersione nel testo è necessaria per un'ottima traduzione e chiaramente richiede tempo richiede attenzione non soltanto linguistica ma una specie di quasi una specie di immedesimazione e sempre poi a proposito della revisione io non ho mai fatto la revisione di una traduzione però naturalmente correggo un sacco di tesi di testi tradotti e effettivamente una cosa importante che ho sentito ribadire varie volte è la misura cioè si va a rivedere il testo senza sostituire con quella che sarebbe stata la nostra traduzione se avessimo tradotto sembra una cosa facile ma non è facile quindi è anche una questione poi di equilibrio e di ascolto del testo che troviamo io avrei anche delle domande poi magari più specifiche però vorrei lasciare anche lo spazio alle domande di chi è qui o di chi è da casa e poi se abbiamo altri 5 minuti le dico posso risponderti a una sola cosa quest'ultima cosa che diceva Ornella Tajani non bisogna sostituirsi al traduttore non bisogna il problema è che quando cominci a rivedere una traduzione stabilisci un rapporto con il traduttore non è che un rapporto nel senso che lo chiami al telefono stabilisci un rapporto con la traduzione che hai davanti allora se stabilisci un rapporto di rispetto cioè dici ah però brava ha fatto bene questo ha impugnato la traduzione gli ha dato un tono allora lo rivedi di meno se fin dall'inizio ci sono delle cose che non ti piacciono allora insisti di più perché non stabilisci un rapporto di rispetto e questo il click che parte naturalmente con traduttori come Federica di Lella insomma si va veramente molto lisci allora prima di dare la parola Federico Pipitone che è un nostro allievo del master che ha alzato la mano online sì una parola anch'io sulla sulla revisione e sul sulla difficoltà appunto quando si rivede un testo a non sostituirsi a chi quel testo ha tradotto quindi il lavoro del revisore che deve essere sempre qualche passo indietro rispetto all'istinto del traduttore che è nel revisore questo aspetto sempre e vabbè poi a me è capitato un'esperienza divertente da questo punto di vista e cioè di essere il revisore di me stesso a trent'anni di distanza e quello beh quella è un'esperienza estremamente interessante perché proprio ti trovi davanti un testo e molte volte proprio ti viene a dire ma che ha fatto questo scemo non perché abbia sbagliato ma perché ma insomma ma no ma no perché così si cambia si cambia moltissimo sì sì e quindi questo però dà la misura di quanto è difficile esercitare equilibrio nella revisione a me spesso è capitato di essere rivisto da persone magari poco esperte poco che non non avevano appunto non avevano questo criterio quindi tendevano a entrare nel testo e a sconvolgerlo magari perché un aggettivo a loro non piaceva e lo sostituivano con un altro in maniera del tutto no bene allora Federico Pipitone coraggio con la sua domanda cerchi di essere non lunghissimo io ho notato che c'era la professoressa Zonghetti prima può essere no non preoccupatevi era un'osservazione prima sugli idiomatismi una sciocchezza dopo dopo prima il giovane masterista grazie per i masteristi mi veniva il dubbio se per tradurre poesia non bisognasse essere più democristiani forse ma era per esercitare moderazione la moderazione nel senso che ci quello che ci dà fastidio forse è che invece traducendo e revisionando capiamo cioè abbiamo migliore consapevolezza della nostra lingua anzitutto nelle espressioni idiomatiche che in italiano sono quasi sempre dialettismi o paradialettismi e appunto le forzature con il fuga in avanti o i conservatorismi eccessivi e a me viene in mente che tradurre forse più prosa che poesia però stavolta vale la pena giocare anche un poco nel campionato di serie B cioè ascoltare lo slang dei ragazzi il gergo dei ragazzi oggi ho imparato per esempio la parola amaranza che viene spesso dal rap milanese questo può aiutare cioè certe discussioni idiomatiche vengono meno ma sono naturalmente sostituite e allora e poi una domanda che non c'entra molto forse Antonio Preta ci ha detto in questa serie di incontri che Leopardi pensava che la lingua francese è molto secca appunto ha queste troncature spesso volentieri e la definiva un po' troppo razionale un po' troppo prevedibile infatti fa una traduzione probabilmente migliorativa della foglia e questo è rimasto così come nell'ottocento oppure Verlaine con la sua della musica ha mirato le cose nel senso dal punto di vista di un orecchio italiano grazie non so se so rispondere a questa domanda anche perché perché io non non ho mai trovato la lingua francese così così secca e e razionale no non so rispondere a questa domanda veramente ci dovrei ci devo pensare su e siccome io penso lentamente non posso rispondere subito io faccio tutto lentamente e no ci dovrei pensare su ci devo pensare non lo so il nostro Federico Pipitone fa spesso domande spiazzante quindi non sei non sei sola nella è spiazzato io stesso è spiazzato lui stesso è spiazzato lui stesso Claudia a te eccomi ciao Ena prima di tutto e buonasera a tutti ciao Claudia ciao allora no quello che volevo dire io sugli idiomatismi che sono invece forse ancora più estremista di te nel senso che comunque se esistono espressioni che comunque una fascia di età diciamo di lettori ancora riconosce e sono a suono a senso comunque vagamente intuibili o comprensibili proprio per il fatto di rendere la lingua di un classico non un pastiche ma comunque arricchirla con quanto magari si è perso nel tempo io azzardo perché quello che non si sa si impara come posso dirti il recupero ricordo che a un incontro ormai un decennio fa uno scrittore rumeno diceva una volta che una parola muore per ritirarla fuori per recuperarla ci vuole dieci volte tanto e forse il compito dei traduttori anche così come dei revisori è proprio quello di cercare di arricchire la lingua non temendo di recuperare alcune di queste espressioni quindi io ogni tanto qualcuna ce la infilo e mi è capitato a volte che anche i ragazzi nelle scuole mi dicessero abbiamo imparato che ne so questa parola sono andata a cercare sul dizionario quest'altra instillare anche un po' di curiosità per idiomatismi o parole o forme verbali e sintattiche magari un pochino vecchierelle ma che ancora tengo un botta diciamo quindi mischiamo i registri credo che possa essere anche una cosa stimolante non lo so per il resto mi sono resa conto che a parte non tradurre poesia usare dislocazioni eccetera diciamo che siamo su binari molto paralleli ma tu sei una traduttrice straordinaria io sono d'accordo su questa cosa l'unica cosa che rispondo ma non per controbattere io sono figurati assolutamente d'accordo e che bisogna sempre sapere cioè non usare una ci sono dei traduttori e non faccio nomi che no non posso fare nomi non voglio fare nomi che hanno che che usano delle delle parole appunto che appartengono a un loro ideoletto è come se decidessero di punto in bianco di mettere una parola perché gli suona bene o perché appunto e invece no bisogna sapere che cosa stai traducendo cioè se stai traducendo un'espressione idiomatica dell'inizio del novecento in russo in francese o in tedesco usa un'espressione idiomatica appunto come dici tu che assolutamente che ma non nel caso ma non così perché 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 la vuoi usare in un momento semplicemente perché ti sembra perché ti diceva questa parola non la facciamo morire adesso la uso ma no capito questa è una cosa importante perché ci sono dei traduttori che purtroppo lo fanno e che non capiscono che quello non è il momento giusto e che non è il luogo giusto e che non è il contesto giusto certo certo io ovviamente mi riferivo solo a espressioni che avevano senso in quel contesto in quella lingua io lo so io lo so che tu lo dicevi così ma lo dico ai giovani traduttori perché io sono molto didascalica e metto sempre i puntini sull'idea no voglio ma sai è anche per tornare magari e poi dopo mi taccio scusatemi per tornare alle tradizioni dei classici anche il famolo strano per forza non ha non ha nessun senso di essere voglio dire quindi sono d'accordo con te quindi se c'è qualcosa da conservare si conserva grazie mille e scusate lo sproloquio grazie a te vediamo se c'è qualche domanda da chi invece è in aula vediamo può darsi altri vedi metto qui così che non salve dunque diciamo innanzitutto grazie per questo è stato davvero è stato molto illuminante e è anche molto pratico tutto quello che ci ha detto ecco è stato improntato su un aspetto molto più concreto che è molto interessante per noi neofiti in un certo senso quindi diciamo nello spirito di quello che ci ha detto lei fino ad ora la mia domanda è molto concreta ecco io parlo da aspirante traduttrice neofita eccetera e mi è capitato la mia piccola esperienza con la piccola editoria è che spesso ci si rende conto che i revisori con le figure che fanno i revisori all'interno delle case editrici un po' più piccoline magari rivedono traduzioni di testi la cui lingua originale loro non conoscono che chiaramente determina una serie di problemi al di là di una mancata conoscenza della lingua c'è anche diciamo una traduzione letteraria una tradizione letteraria che loro ignorano quindi non so come ci si comporta una situazione del genere come traduttore diciamo che chiaramente uno ospira sempre a un rapporto di fiducia di rispetto eccetera con un revisore però ecco mi chiedo come ci si dovrebbe un po' comportare ma lei ha ragione quando io parlavo di queste cose per esempio mi è capitato spessissimo di sentirmi dire in occasione delle giornate della traduzione letteraria che prima si facevano urbino adesso si fanno a Rimini organizzate da Ili dei Carmignani che molti traduttori mi dicevano ma i revisori leggono solo leggono solo la traduzione non guardano il testo originale e quindi tendono ad allisciare a normalizzare e lo capisco bene perché lavorano così il discorso che io vi ho fatto è veramente un discorso da ricchi cioè noi lavoriamo ancora così e noi lavoriamo ancora così e so per esempio che anche alle Inaudi lavorano ancora così dopodiché lo so perché mi sono confrontata con dei revisori delle Inaudi non lo so come spesso si spesso lo so che capita che leggono soltanto l'italiano per cui ogni volta che c'è qualche cosa che non gli suona bene proprio detto volgarmente cambiano invece di andare a guardare il testo di vedere se nel testo lì c'è una stranezza se nel testo lì c'è una trasgressione che quindi bisogna conservare in qualche modo nella lingua di arrivo ma che cosa bisogna bisogna cercare di farglielo capire bisogna cercare comunque la mediazione il il confronto però bisogna cercare secondo me quando si pensa di essere nel giusto perché appunto si ha davanti bisogna cercare di difendere le proprie le proprie ragioni come se dietro si avessero trent'anni di esperienza di traduzioni bisogna cercare di difendersi naturalmente nella misura in cui si può fare sia il tempo la possibilità di farlo poi devo dire che in realtà delle occasioni anche come questa aiutano a vedere l'importanza della revisione adesso siamo all'interno di un master però diciamo che nella invisibilità totale della traduzione revisione eccetera si stanno creando un po' di occasioni in cui si pone l'attenzione sull'importanza del processo di revisione e magari questo arriva poi anche agli editori che alcuni magari sul modello di grandi case editrici provano a curarle un po' in più le traduzioni a me è successo di recente con una casa editrice molto più piccola che è alter ego di avere comunque una revisione in cui mi sono state fatte notare un paio di cose che mi erano sfuggite e sta anche secondo me ai traduttori i traduttori affermati lo dicono sempre sottolineare che la revisione è importante quindi il traduttore non è un super uomo o una super donna che crea di suo la traduzione perfetta e basta il processo di revisione è essenziale per chiunque perché qualcosa sfugge sempre anche ai migliori e aggiungo una cosa se è vero quello che ha appena detto Ornella Tajani ossia che anche case editrici come dire con meno possibilità vogliono si sono resi conto che non si può mandare in stampa il file di una traduzione così come arriva in casa editrice e su questo veramente chiudiamo c'è qui una una come si può tradurre anche se no non so mai come tradurlo uno spazio di possibilità lavorative nel senso che se uno capisce che gli piace fare la revisione di un testo può proporsi a una casa editrice invece che come traduttore come revisore visto che appunto se è vero come è vero che le case editrici si rendono conto sempre di più siccome torniamo a quel discorso che abbiamo fatto all'inizio su quello che è il mercato del lavoro le case editrici hanno bisogno di revisori perché appunto si rendono conto che una traduzione ha bisogno comunque di essere riletta con attenzione va bene chiudiamo poveretti grazie a tutti e grazie anche a quelli che ci hanno ascoltato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti